Mi trovo in piscina. Allora ve la faccio vedere. All'Ivino. Qui ci sono tutte le bici che si mettono in acqua. Questa è la piscina, quella di 25 metri. Qui ci sono altre piscine. Là sopra c'è la palestra. Vedete? Fuori c'è tutta la neve. Qua ci sono delle belle bici. Vado a cercare le altre piscine. Bello. Praticamente bisogna mettere il braccialetto ogni volta che entro ed esco da una piscina. Ecco, questo è il braccialetto. Ecco qua. Qua c'è la zona delle piscine con gli scivoli. E qua ci sono gli scivoli dove si deve salire la scala sopra per poterli usare. Adesso si sale questa scala e ci si giuppa di sopra. Eccoli qua. Uno, due, tre. Questa è la sauna. Questa fa caldo da morire. Questa è la sua scala...